Musica Benvenuti al TG10 in apertura del telegiornale, oggi c'è la pagina della cronaca giudiziaria, vi riferiamo di quattro arresti eseguiti a Gela da polizia e carabinieri per diversi reati. Attività anticrimine della polizia di Gela con tre arresti e tre denunce, le manette sono scattate per Giuseppe Morello, 22 anni. Il ragazzo si trovava a bordo di un'auto quando è stato bloccato dagli agenti della reparto prevenzione e crimine di Palermo sullo lungomare Federico II di Svevia. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di una tracolla collocata sul sedile posteriore della vettura al cui interno c'erano dieci dosi di marijuana, probabilmente destinata allo spaccio in città. Il pubblico ministero, Lara Secchaccini, ha disposto per Morello gli arresti domiciliari. In macchina con Morello c'era anche un 25enne che è stato denunciato. Sempre la polizia ha bloccato il 22enne Samuele Palmeri. Il giovane stava tentando di rubare una motoape all'interno del parcheggio dell'ospedale Vittorio Emanuele. È stato uno dei vigilantes in servizio al nosocomio ad accorgersi di quanto stava accadendo ed allertare gli agenti delle volanti. Nel tentativo di dileguarsi, Palmeri ha più volte colpito la guardia giurata, provocandogli delle lesioni guaribili in 15 giorni. Palmeri adesso si trova ai domiciliari. Due presunti complici, invece, sono stati denunciati a piede libero. Nel corso dell'attività, la polizia ha arrestato Mario Luca Anzaldi, 40 anni. Deve scontare in carcere due anni e dieci mesi per furto aggravato e ricettazione. Tre mesi e venti giorni, invece, li deve scontare il giolese di 45 anni arrestato dai carabinieri. Si tratta di Marcello Orazio Sultano. Secondo l'accusa, tra il 2001 ed il 2004, in concorso con altri affiliati, avrebbe storto denaro in più occasioni per favorire Cosa Nostra. Sultano, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di contrada balate a Gela. I tormenti del PD giolese agitano la politica locale, come sempre incapace di affrontare e risolvere i problemi di Gela. Se ne è parlato ieri sera ad Agorà. I tormenti del PD gelese come emblema di una città tormentata, dilaniata da una politica che in maniera incisiva sa solo litigare e dividersi. Quando invece è chiamata ad occuparsi delle comunità amministrate. Altrove, la politica fa veramente poco, è vero, ma a Gela ha fatto peggio, perché non solo non ha risolto alcun problema, ma di contro i problemi li ha proprio creati. Basti guardare in quali condizioni è stata ridotta Gela per rendersi conto del cattivissimo operato di chi l'ha governata. E il PD, che non è solo il maggior partito cittadino, ma anche e soprattutto quello che ha amministrato Gela negli ultimi 22 lunghissimi anni, prima dell'avvento della giunta messinese otto mesi fa, continua a dimostrare tutti i suoi pregi, o forse tutti i suoi difetti, ossia frizioni interne a non finire, spaccature nette, talmente nette da creare a tutti gli effetti due partiti in uno. Ed è già tanto per il PD gelese che fino a pochi giorni fa sembrava tre partiti almeno in uno. Ora, ufficialmente, è un partito a due teste il PD gelese, una sorta di mostro sottomarino visto in alcuni film di fantascienza. Uno è quello che ha eletto Peppe Di Cristina quale nuovo segretario cittadino, l'altro è quello che disconosce questa elezione e sta per organizzare un contro congresso per eleggere, dicono loro, il vero segretario cittadino del PD. Un bel guazzabuglio, non c'è dubbio, che rispecchia appena un regime il guazzabuglio di problemi in cui sta annegando Gela. Loro litigano, invece che aiutare la città ad uscire dal tunnel della crisi più grave della storia moderna di Gela, e la città precipita, inascoltata nel baratro. Se n'è parlato ieri sera da Goran, il corso di una trasmissione che ha ospitato proprio il neosegretario cittadino del PD, Peppe Di Cristina, ma anche un alto esponente dell'altro PD locale, quello definito della Fronda Renziana, che non riconosce il PD di Di Cristina e i suoi nuovi vertici. In studio, infatti, l'avvocato Giuseppe Licata, segretario del circolo Gela Città del PD, ostile a quella parte di PD che ha eletto appunto Di Cristina. E poi ancora il componente della direzione regionale del PD, Giacomo Gulizzi, e quindi il sindaco di Gela, Domenico Messinese, oltre all'assessore alla Polizia Municipale allo Sport, Eugenio Catania. Fresco dichiarimento con l'architetto Emanuele Tuccio, dirigente comunale, con il quale era scoppiato un caso politico-amministrativo giornalistico, poi rientrato dopo la riappacificazione dei due, grazie anche all'intervento di mediazione dello stesso sindaco messinese. Nervi tesi, dunque, in una città che non ne può più di una politica inconsistente e distruttiva, e che finora è stata impegnata solo a coltivare i propri orticelli, infischiandosene sonoramente di Gela e dei suoi tanti problemi. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora, potrà farlo domani sera con la messa in onda della replica integrale, che sarà trasmessa da Canale 10 a partire dalle ore 21, oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, con Gela e Di Gelesi al centro dei nostri riflettori. Le vada di scudi da parte dei commercianti di Gela centro. Martedì prossimo ci sarà interruzione di energia elettrica. Ha chiesto un intervento immediato da parte del Comune. Sentiamo. Granvillano, martedì verrà interrotta la luce elettrica. Sono stati affissi degli avvisi per comunicare questa situazione che si dovrebbe verificare martedì e la risposta di Gela centro è che non ci state. Assolutamente no. La problematica dei distacchi elettrici dell'Enel è una problematica che si verifica con una cadenza frequente e riteniamo che trattandosi di distacchi temporanei e non aventi caratteri d'urgenza e quindi programmati possono essere ben svolti in un fascio l'aria laddove non si creano problematiche all'attività commerciale, ai professionisti e all'utenza tutta. Quindi chiediamo all'amministrazione di voler intercedere con l'Enel al fine di valutare un protocollo di intesa laddove i lavori pubblici vengano fatti nelle fasce orarie delle 14, 30, 16 o 21, 8 di mattina al fine di non creare problematiche. Così come esiste un'ordinanza dirigenziale che obbliga i privati di poter svolgere lavori in centro storico durante queste fasce orarie. Quindi no a decisioni assunte unilateralmente ma eventualmente ad un accordo anche con voi? Assolutamente sì, riteniamo che non essendoci il carattere d'urgenza queste decisioni arbitrarie, quasi dittatoriali, che vengono poste in essere all'attività produttiva oltretutto in tempi così particolari e martoriati, sono superflui. Quindi fare un protocollo di intesa dove loro possono svolgere gli ordinari lavori di manutenzione nell'impianto elettrico e noi, ripeto, noi attività commerciali, professionisti, ma anche l'utenza perché c'è un'utenza del comprensorio che verrà ad esempio martedì e troverà tutte le attività commerciali chiuse. Quindi questo è un danno che si crea non solo alle attività commerciali per il mancato guadagno ma anche al centro commerciale naturale, in questo caso noi che lo rappresentiamo giuridicamente il Consorzio Gelacentro, con un danno d'immagine per la nostra struttura commerciale. Sa se alcuni suoi colleghi si stanno organizzando con dei generatori per evitare l'interruzione delle attività? La gran parte dei bar, degli esercenti, insomma, che hanno materiali deteriorabili obbligatoriamente, non per volontà, devono organizzarsi con dei generatori di corrente alternativa. Il resto delle attività commerciali è molto difficile perché si tratta di generatori di grossa potenza, molto ingombranti, oltretutto non particolarmente gestibili nel centro storico e quindi obbligatoriamente dovranno chiudere, così come la gran parte dei professionisti. Quindi lei lancia un appello, uno rivolto all'amministrazione comunale e uno invece a chi ha preso questa decisione? Sì, lanciamo un appello duplice, chiediamo all'amministrazione un intervento immediato per la giornata di martedì affinché questo non succeda. Oltretutto nelle comunicazioni dell'Enel non vengono posti nemmeno contatti per poterli rintracciare. Una comunicazione messa venerdì per martedì, considerando che oggi è sabato, non sapremo a chi poter contattare per intercedere al fine di evitare tutto questo. Cambiamo argomento e adesso occupiamoci del seminario sulla contabilità armonizzata che si è svolto al Palazzo di Città. Dal principio della competenza finanziaria potenziata al piano dei conti integrato dal fondo pluriannale vincolato alla gestione provvisoria, sono alcuni dei punti sviluppati durante il seminario che si è tenuto al Comune di Gela dal titolo Introduzione alla contabilità armonizzata degli enti locali. Ha relazionato il responsabile finanziario del Comune Alberto De Petro. Per l'amministrazione comunale c'era l'assessore Fabrizio Morello. Presente anche Giuseppe Nicoletti, presidente dell'Ordine dei commercialisti, destinatari dell'iniziativa formativa, sono stati dirigenti, funzionari ed impiegati comunali, amministratori, professionisti ed esperti contabili. Iniziamo questo primo incontro per dare una prima risposta non solo ai dipendenti, funzionari, dirigenti dell'ente, ma l'abbiamo estesa anche all'ordine professionale, proprio per dare le nozioni di base e riuscire a comprendere come gestire adesso la fase di gestione dell'entrata della spesa secondo i nuovi principi contabili. Oltre agli schemi di bilancio che stiamo commentando nelle loro parti, con le loro unità, parleremo anche delle fasi di gestione dell'entrata della spesa per dare una prima e immediata risposta a quelli che sono i nuovi arrempimenti contabili che coinvolgono un po' tutti i dirigenti e tutti i settori dell'ente. Oggi al Comune di Gera iniziamo la fase direi nuova almeno per questo ente, questo è l'obiettivo che ci siamo posti come Comune. Partiamo dal presupposto che questo è il nostro paese in cui la normativa è in continua evoluzione e spesso i dipendenti o comunque l'organizzazione nel suo complesso delle risorse umane non segue mai a passo quelle che sono le evoluzioni. L'obiettivo che ci siamo posti è anche insieme ai dirigenti, il dottor Alberto De Petro, è quello di far sì che a quelle che possono essere i mutamenti e l'evoluzione di natura normativa possa seguire anche una formazione corretta e doverosa per migliorare quello che è l'efficienza della macchina. Questo è il primo passo, oggi attiene al bilancio armonizzato e quindi alla rivoluzione che c'è in materia prettamente contabile negli enti pubblici e poi speriamo sin da subito di avviare anche altri momenti formativi. Inaugurata ieri la biblioteca nell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela, c'eravamo anche noi. Nuovo look per la biblioteca Salvatore Zuppardo dell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela, il centro culturale della scuola diretta da Viviana Aldisio è stato rinnovato grazie alla collaborazione di numerosi professionisti. Cerchiamo di lavorare sul miglioramento continuo e proprio per questo cerchiamo anche di migliorare e strutturare gli ambienti di apprendimento sempre di più per lavorare su quello che è il potenziamento dei ragazzi. Un ambiente sano e un ambiente adatto alle attività che la scuola propone già è un punto di partenza corretto e vincente per il raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo realizzato ciò pensando ai piccoli e ai grandi, è un istituto comprensivo e quindi abbiamo anche deciso di dedicare un'area proprio ai bambini piccoli, ai bambini di 5 anni, prima elementare, seconda, terza elementare, ma anche poi più grandi perché chiaramente la scuola secondaria di primo grado dà uno spazio molto importante a quella che è la lettura e il potenziamento della lettura. Il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana, Salvatore Zuppardo, ha donato alla biblioteca 500 libri di poesie e narrativa. Nonostante la crisi dei poeti sia evidente, ce ne accorgiamo dai tanti numeri di partecipanti al premio Gorgone d'Oro che comunque fanno registrare un calo delle adesioni. Nonostante questa crisi c'è davvero l'esigenza di scrivere, c'è davvero l'esigenza di esternare i propri sentimenti e di raccontare l'attualità attraverso la poesia. Ce l'ha dimostrato anche Nino Frassica con la sua poesia a mare si gioca nell'ultimo intervento a Sanremo 2016, proprio perché c'è la volontà da parte di chi scrive di esternare i sentimenti ma soprattutto di mettere nero su bianco ciò che è l'attualità, ciò che sono le emozioni e ciò che sono i sentimenti attraverso la poesia. Quindi un percorso che nasce in collaborazione con l'Istituto Verga per promuovere la poesia anche attraverso i ragazzi. In occasione dell'inaugurazione di ieri, gli studenti hanno dato vita ad un recital di poesia accompagnato al piano da Emanuele Ducchetta. La serata è stata impreziosita da una performance di Flauti, diretta da Rita Scuvera. Incontro sull'educazione media e le competenze tecnologiche ieri alla scuola Enrico Mattei. Vediamo. Sviluppare l'educazione media e le competenze tecnologiche è il tema trattato ieri nel corso di un seminario che si è svolto nei locali dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei di Gela. Davanti ad un pubblico attento ha relazionato il sociologo Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università degli Studi di Messina, che ha coordinato sul tema numerose ricerche e firmato diverse pubblicazioni. Da una parte ci sono ragazzi sempre più connessi e che fanno in rete qualunque cosa, stiamo parlando dei preadolescenti, ma soprattutto ci sono genitori totalmente inconsapevoli di quello che i loro figli fanno in rete. E cosa bisogna fare in questo caso? Il genitore cosa deve fare? Deve avere consapevolezza. I due maggiori pericoli sono sicuramente la pedopornografia e quindi il sexting, abbinato al sexting e al cyberbullismo. Sono due forme di violenza molto pericolosa che i genitori in qualche modo devono intercettare in collaborazione anche con la scuola. Soprattutto. Sì, sì, la scuola è fondamentale anche perché è un terminale, abbiamo visto anche dalle indagini e dai dati, a cui i ragazzi si affidano anche dopo aver parlato ai genitori. L'argomento affrontato ieri è stato scelto anche per fornire ai docenti nuovi strumenti per una didattica sempre più vicina agli alunni nativi digitali, ma anche per fornire ai genitori un supporto che alimenti in maniera proficua il rapporto scuola-famiglia. L'anno scorso con il professore Pira abbiamo parlato di come utilizzare nel miglior modo possibile i media all'interno della nuova didattica, soprattutto riferendosi ai cosiddetti nativi digitali. L'anno scorso però il percorso era mirato esclusivamente solo per i docenti. Quest'anno abbiamo deciso di allargare anche alla presenza dei genitori, però intervenendo sotto un altro aspetto, cioè quanta responsabilità hanno i genitori. I genitori sono consapevoli di come i loro figli usano gli strumenti. I figli spesso ne sanno molto di più di noi che non siamo assolutamente nativi digitali, però spesso sfuggono al controllo dei genitori. Allora interrogarsi sempre più vale la pena, soprattutto perché davvero quello che leggiamo dall'ecrona che spesso ci sorprende, ci sembra inaudito e magari può accadere dietro l'angolo. Anna Salsetta ha vinto il premio Radio 2016 del Sanremo Music Award. È un premio molto importante, sono soddisfatta. Ringrazio tutti voi perché mi avete sostenuta e siete davvero tantissimi. Vi voglio bene. Adesso mi aspetta una collaborazione. È quanto ha dichiarato la talentuosa cantante gelese in un suo post pubblicato nel profilo Facebook. Anna ha cantato One and Ollie di Adele, il solo e unico. E Anna era la sola ed unica siciliana tra i 14 finalisti che hanno avuto la possibilità di accedere alla finale di Monte Carlo del Sanremo Music Award. La 27enne ha prima incantato il pubblico del Palafiori di Sanremo con la passione per la musica che da sempre l'accompagna. Un sogno che si realizza per lei, calcare quel palcoscenico davanti ad un pubblico di giornalisti provenienti da tutto il mondo. Erano presenti infatti 90 televisioni e 45 radio. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Affari spenti o per meglio dire a raffineria chiusa, arriva il ricatto dell'Eni al territorio, l'ennesimo, stavolta per tramite dei suoi avvocati. Insomma, se l'azienda verrà condannata andrà via e addio agli investimenti previsti nel protocollo d'intesa. Il giornale apre con uno servizio di Filippo Guzzardi su questo argomento. Tiene banco anche la fattura in seno al Partito Democratico con il congresso di domenica scorsa senza l'area renziana che preannuncia un nuovo congresso per il mese prossimo. Le solite lotte interne che continuano a dilaniare il PD e che il giornale mette a nudo in un servizio a più voci, affirma Guzzardi Lombardo. E Giulio Cordaro non si lascia sfuggire l'occasione ironizzando nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto su quella che definisce la politica del semaforo. In prima pagina anche il richiamo di una curata indagine condotta da Lucrezia Ferro tra i commercianti gelesi alle prese con la crisi più nera degli ultimi tempi dovuta in buona parte alla chiusura della fabbrica. Nelle pagine interne altri articoli di Attualità e Cultura di Nello Lombardo, Franco Lauria, Gianni Virgadaula e Marco Diddio. Nello sport i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio, di eccellenza e di promozione ed in ultima la pagina dei piccoli annunci economici. Ci fermiamo, linea alla leggia per la pubblicità. Rieccoci in seconda parte del telegiornale che apriamo parlando dell'Open Day al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela. Festa al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela. La scuola ha aperto le porte in occasione dell'Open Day. È stata l'occasione per offrire alle famiglie degli studenti che il prossimo anno frequenteranno gli istituti superiori l'opportunità di incontrare gli insegnanti, di conoscere le metodologie e la didattica applicate. Durante l'incontro è stato possibile visitare gli ambienti ed i laboratori presenti all'interno dell'istituto scolastico. È giusto che i ragazzi possano vedere e toccare con mano ciò che una scuola offre. Non solo a livello di piani di studio ma anche di risorse strumentali. Quindi l'ambiente così com'è, i laboratori, tutto fa sì che i giovani domani quando decideranno, se decideranno di frequentare la nostra scuola non si sentiranno disorientati. Saranno già padroni del luogo. Ed è stato importante sottolineare la presenza soprattutto dei genitori e degli alunni. Noi ci teniamo molto che i genitori partecipino a questa giornata perché i giovani da solo possono sempre avere dei dubbi. Una scelta guidata, una scelta condivisa diciamo con i genitori fa sì che il ragazzo prosegua nella maniera migliore nello studio perché potrà sempre avere un supporto adeguato in qualunque momento di difficoltà o un momento di dubbio. Ed ora la nostra consueta rubrica quotidiana in breve. I reperti del mare se ne parlerà nel corso di una conferenza presieduta dal sovrintendente Sebastiano Tusa lunedì 15 febbraio prossimo alle 10 nei locali del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela diretto da Angela Tuccio. Saranno presenti tra gli altri Pietro Carosia comandante della Capitaneria di Porto di Gela Ennio Turco direttore del museo e Francesco Cassarino. Domani presso il Teatro Eschilo di Gela sarà presentato il libro scritto dall'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro dal titolo L'uomo è un mendicante che crede di essere un re. Interverranno oltre all'autore Rita Bernardini già presidente dei Radicali e l'avvocato Giacomo Ventura presidente della Camera Penale. Modererà i lavori la giornalista della Sicilia Maria Concetta Goldini. Concluderà la professoressa Lina Orlando amministratore della libreria Mondadori di Gela. In occasione di San Valentino ricorrenza che sarà celebrata domani al centro di raccolta fisso di Via degli Appennini numero 5 a Gela si terrà una speciale raccolta del sangue dedicata alle coppie che vorranno donare nella stessa giornata ad accoglierle i volontari che doneranno gadget scelti per la ricorrenza. Continuano gli appuntamenti in occasione dell'82esima stagione concertistica gelese. Domani alle 19 al Palazzo Pignatelli concerto del trio gelese Cristina Marazzotta al clarinetto Orazio San Martino alla tromba e Nuccia Scerra al pianoforte. L'iniziativa porta la firma dell'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Andrà in scena oggi alle 21 al Teatro Eschilo di Gela la compagnia di Lipari piccolo borgo antico con la commedia brillante Un pizzico di pizzo. Lo spettacolo rientra nel calendario sabato a teatro rassegna di lavori comici promossa dall'associazione Demetra. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. Lo sport e calcio gioca in casa l'Atletico Gela domani la squadra allenata da Pepe Misiti nel campionato di promozione affronterà al Vincenzo Presti l'Ostico Aragona un impegno da prendere con le dovute cautele per l'11 Gelo Rosso a riduce dal pareggio ottenuto domenica scorsa nel derby con l'Atletico Caltanissetta. Trasferta invece per il Macchitella che renderà visita alla vicecapolista Licata i Biancorossi si presenteranno all'appuntamento con tre sconfitte consecutive sul groppone. La pagina del cinema è Frenny con Richard Gere il film in programmazione al Cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela sono tre gli orari 17.30, 19.30 e 21.30. Con la pagina dedicata al cinema noi chiudiamo le informazioni di oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni ne approfittiamo per augurarvi un buon weekend. Grazie.